L'esercito italiano insieme con le altre forze armate partecipa a missioni di pace fuori dal territorio nazionale e ad operazioni all'interno del territorio a salvaguardi della popolazione e per contrastare la delinquenza. Non solo questo, ma l'esercito in questo momento si sta muovendo a 360 gradi anche nei confronti di quel segmento della popolazione che in questo momento è la parte più delicata, la parte più sensibile del nostro futuro e ci riferiamo ai giovani. E infatti proprio in questo contesto abbiamo recentemente avviato un'iniziativa che si chiama Fencing for Change un paio di anni fa con la quale stiamo sottraendo i giovani, non sottraendo, recuperando i giovani dalle scuole per invogli a fare attività sportive tipo scherma.